buongiorno a tutti oggi siamo a paradiso per presentarvi questo quattro locali siamo al secondo piano di questa palazzina entrando nell'appartamento veniamo accolti da questo grande disimpegno sulla parte destra abbiamo tutta la zona giorno ed un ufficio mentre sulla parte sinistra la zona notte appena entrati possiamo vedere subito questo armadio a muro veramente grande e molto comodo e frontalmente noi abbiamo questa porta che ci fa accedere alla zona notte e ai bagni sulla destra possiamo notare subito la prima stanza vedete un ambiente molto luminoso grazie a questa finestra e questa porta finestra che ci fa accedere ad un balcone proseguiamo alla sinistra della prima stanza abbiamo la seconda stanza anch'essa sempre molto luminosa grazie a questa finestra e questa porta finestra che ci fa accedere al balcone in comunione con la prima stanza nella zona notte abbiamo anche due bagni ecco il primo bagno composto di specchiera lavabo vc e alla sinistra dell'ingresso una comoda vasca concludiamo la visita nella zona notte nel secondo bagno un bagno di servizio composto di lavabo specchiera vc e doccia ritorniamo verso l'ingresso ed ecco che sulla nostra sinistra troviamo un secondo armadio a muro già installato frontalmente noi una terza stanza che può tranquillamente essere utilizzata come ufficio ecco che ora entriamo nell'anima di questo appartamento la zona giorno vedete una zona giorno ricca di finestre e di bordi finestre che ci fanno accedere ai balconi proseguiamo troviamo questa cucina una cucina come potete vedere veramente imponente caratterizzata da frigorifero congelatore lavastoviglie lavabo forno e piano cottura a induzione sulla parte sinistra della zona giorno abbiamo l'accesso a questo secondo balcone ecco che possiamo vedere di un'altra panoramica in tutta la zona giorno e finalmente possiamo grazie a questa porta finestra accedere al balcone un balcone come vedete di dimensioni veramente interessanti che ci regala una vista incredibile e veramente unica sul lago e se vi è piaciuta questa soluzione e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto